buongiorno a tutti allora c'è stato il gigante femminile a solden volete che non ci fosse anche il gigante maschile e certo quindi il gigione con la sua bella felpettina da brun che freddo che fa adesso vi va a raccontare quello che è successo nello slalom gigante maschile di solden che si è disputato domenica quindi andiamo a vedere innanzitutto come vi ho già spiegato la prima masch ve la racconto in maniera rapida con la classifica e poi andiamo direttamente con la seconda masch questo varrà sia per lo slalom gigante sia per lo slalom speciale per quanto riguarda invece le gare veloci ve le racconto direttamente visto che è una masch unica e infine per quanto riguarda le gare doppie come la super combinata eccetera e lì vi racconterò sia lo slalom che la discesa libera per forza perché sono due discipline diverse che si uniscono per crearne una sola quindi sono due manche con due discipline diverse c'è il super gigante con lo slalom e la discesa libera con lo slalom detto questo andiamo a vedere come è andata questa prima manche perché è bella e interessante perché abbiamo gino caviezze al primo posto in seguito da craniec al secondo con 6 centesimi di ritardo christophersen è terzo a 10 centesimi pinturo è quarto a 15 centesimi braten è quinto a 24 centesimi meiard è sesto a 28 centesimi odermatt è è settimo mi stavo mangiando una lingua con 31 centesimi hoghen è ottavo a 42 centesimi poi abbiamo il nostro luca dell'iprandini che nono a 57 centesimi quindi attenzione perché non è lontanissimo e infine decimo abbiamo ted ligati a 77 centesimi quindi tutti e dieci primi sono sotto nettamente al secondo di distacco sono a meno di un secondo di distacco in dieci quindi è una gara da libidine per quanto riguarda gli altri italiani abbiamo un manfred morga rientro ventesimo a 1 e 46 borsotti ventiduesimo a 1 e 71 e nani ventiquattresimo a 1 e 89 ci si aspetta un attimino di più da loro dell'iprandini è sempre lì nei dieci però manca sempre come si suol dire il centesimo per fare la lira o il centesimo per fare l'euro visto che la lira purtroppo non c'è più veniamo alla seconda mash allora vediamo cosa è successo perché il primo a scendere è radamus trentesimo dopo la prima mash quindi sarà suo il primo tempo da battere si fa per dire però è il riferimento iniziale il suo tempo totale di due minuti 17 secondi e 48 millesimi vediamo se riesce a recuperare qualche posizioncella oppure no tocca a krischmaier 18 centesimi di vantaggio una gara non perfettissima ma alla fine riesce a stare davanti per solo 8 centesimi ma temo che sarà difficile per lui recuperare troppe posizioni tocca a reed solo 18 centesimi di vantaggio vediamo se gli bastano buona prova invece del canadese che riesce anche a incrementare a portare a 82 centesimi il suo vantaggio quindi si prende il primo posto provvisorio ed ha come si suol dire il primo strappo per cercare di recuperare il più possibile tocca a soleim solo 3 centesimi su reed ma forse vuole strafare e dopo diversi errori di qua errori di là la fine sbaglia e non termina nemmeno la gara come direbbe meda mannaggia mannaggia ogni tanto mi piace inserire il grande guidone anche nelle gare di sci soprattutto quando ahimè succede il patatrac o cadono o magari da vincere da vincere da vincere poi fa la seconda manche e fa disastro ci prova il nostro nani che è ventiquattresimo dopo la prima manche però vantaggino risicato risicato di soli 7 centesimi e infatti non bastano non una buona prova ma comunque sono sempre punti perché termina al terzo posto con 45 centesimi di distacco tocca a luiz ventitresimo dopo la prima manche vantaggio di 21 centesimi buona prova del tedesco che si prende al primo posto e incrementa a 37 centesimi il suo vantaggio e anche lui ventitresimo vedremo se riuscirà a entrare nei vedremo tocca al nostro borsotti vantaggio minimo solo 4 centesimi e ventiduesimo dopo la prima manche una buona prova dai facciamo i bravi una buona prova del nostro connazionale che si prende il primo posto con 13 centesimi di vantaggio non so non lo so non diciamo nulla non diciamo nulla forse nei venti entra poi tutto quello che viene in più è di guadagnato anche perché ripeto sono tutti abbastanza vicini vicini tocca al nostro manfredone molg che tra l'altro come dicevo prima era rientro dall'infortunio ventesimo dopo la prima manche vantaggio abbastanza interessante 25 centesimi sul suo compagno di squadra però una gara così così alla fine solo sesto con un ritardo di 64 centesimi e quindi il nostro borsottone almeno nei venti c'è prova murisier 17esimo dopo la prima manche vantaggio di 49 centesimi sul nostro borsotti dopo aver rischiato di uscire per degli arretramenti mica da ridere ma è stato bravo ad restare in piedi alla fine giunge sul traguardo e si mette al primo posto con 29 centesimi si ferma per il momento così il tentativo di rimonta del nostro borsotti che comunque male che vada sarà diciottesimo era ventiduesimo quattro posizioncelle recuperate entrare già nei venti è importante la classifica comunque positiva perché dopo la discesa dei degli atleti dalla trentesima alla sedicesima posizione abbiamo murisier primo borsotti e secondo quindi male che vada sarà sedicesimo quindi siamo è lì al podio al limite dei 15 se entrano i 15 è libidine al terzo posto luiz al quarto brengsteiner al quinto maes al sesto rid al settimo sette sette al settimo è fantastico ottavo merg nono nani e decimo cricchmeier quindi per quanto riguarda gli italiani molto male che vada sarà ventitresimo nani male che vada sarà ventiquattresimo quindi più o meno mantengono la stessa posizione no ma per ora ne perde tre nani è alla pari e borsotti ne ha già recuperato un botto perché se anche sedicesimo ne recupera sei non male non male ma mancano ancora un po di atleti vediamo cosa succede prova favrot quattordicesimo dopo la prima match e tenta di scalzare murisier che per ora non ci sono non riuscite ancora nessuno ha un vantaggio interessante 26 centesimi gara non male alla fine passa al comando con 17 centesimi di vantaggio difficile che bastino per entrare nei 10 però staremo a vedere perché ripeto adesso sono tutti molto vicini e può succedere veramente di tutto come voleva si dimostrare ho parlato troppo presto favrot è sicuramente nei 10 visto che per ora nessuno lo ha battuto e ligati che era decimo è uscito dopo aver ferso uno sci all'ingresso del muro quindi il signor favrot male che vada è nei 10 per ora è ancora primo mancano 9 atleti e il primo che adesso proverà a sfidarlo è il nostro dei aliprandini che dopo la prima match tra l'altro anche un vantaggio direi interessante 39 centesimi però se vuole puntare al podio deve incrementare purtroppo dopo aver illuso al primo intermedio in cui aveva quasi un secondo di vantaggio termina al secondo posto a 16 centesimi appunto da favrot che che quindi entra ulteriormente nei 10 vabbè in ogni caso dei aliprandini col secondo posto a 8 atleti dalla fine male che vada è nei 10 all'ultimo posto ma è decimo e quindi è sempre importante restare sempre nei 10 per tenere sempre un pettorale nei 15 poter partire bene la classifica quando mancano appunto solo otto sciatori alla fine vede favrot al primo posto del aliprandini è secondo musisi è terzo zupcici è quarto borsotti è quinto che quindi male che vada sarà tredicesimo libidine luiz è sesto smid è settimo muffagian d è ottavo brensteiner è nono e il belga mais è decimo tocca ad ogen vantaggio di 54 centesimi e appunto ottavo dopo la prima mash nella parte alta il primo intermedio è ottimo è sopra il secondo poco sopra il secondo poi però nella restante parte di gara perde tanto ma alla fine riesce a rimanere primo con 17 centesimi di vantaggio quindi male che vada ogen manterrà il suo ottavo posto della prima mash tocca a ogen vantaggio di 11 centesimi appunto su ogen gara in crescendo al contrario di ogen perché nel primo intermedio è sotto di qualcosina pochettino e poi alla fine termina con ben 99 centesimi di vantaggio e attenzione perché ogen potrebbe aver fatto una gara da podio potrebbe perché tutto può accadere per ora nessuno gli sta davanti ci prova braten che era quinto dopo la prima mash e vantaggio di soli 7 centesimi ve l'ho detto sono tutti molto vicini sarà domirsi ma visto l'ottima gara di ogen a 99 centesimi vantaggio la gara di braten è incredibile perché al terzo intermedio è dietro di 3 centesimi all'inizio era partito alla grande sembrava stare davanti sembrava stare davanti poi ha fatto l'errorino come si suol dire e al terzo intermedio è arrivato a 3 centesimi di ritardo da appunto odermatt e invece poi al traguardo 5 centesimi di vantaggio non so cosa succederà dopo forse sono pochi forse sono tanti vedremo vedremo per ora è primo zitto zitto cacchio cacchio ne devono scendere ancora 4 scende pinturo quarto con 9 centesimi di vantaggio ma ahimè al termine della gara è solo terzo con 49 centesimi di ritardo tocca a kristoffersen terzo e 14 centesimi di vantaggio ma una gara pessima anche se poi alla fine prova a recuperare qualcosina ma alla fine è quarto con 56 centesimi di ritardo e quindi zitto zitto cacchio cacchio braten raggiunge il suo primo podio in carriera tocca a crani è secondo dopo la prima masce 18 centesimi di vantaggio ma anche lui male anche lui alla fine è solo sesto con ben 77 centesimi di ritardo e braten zitto zitto cacchio cacchio adesso sogna 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 perché in ogni caso male che vada il suo primo podio e sennò può essere addirittura la sua prima vittoria in coppa del mondo ormai resta solo gino caviezel vantaggio di 24 centesimi primo punto dopo la prima masce subito malino anche lui sempre in ritardo ma alla fine è sul podio col terzo posto a 46 centesimi di ritardo quindi la classifica finale vede braten al primo posto odermatt è secondo caviezel è terzo diciamo che nessuno se lo sarebbe mai aspettato un interno del genere alla prima gara poi abbiamo pinturo quarto meillard e christophersen sono a pari merito al quinto posto settimo è crani e ottavo è nonno è favore e decimo è de alipandini per quanto riguarda gli italiani tredicesimo è borsotti ventunesimo è meol che perde una posizioncina ma va bene lo stesso ventitresimo è nani che guadagna una posizioncina ma va bene lo stesso e c'è da segnalare una cosa borsotti e luiz rispettivamente tredicesimi e quattordicesimi sono i due sciatori che hanno recuperato più posizioni nella seconda manche ben nove detto questo io vi saluto vi ringrazio ci vediamo ai prossimi video e naturalmente schedine e bollettine del gigione per l'europa league magari al giovedì ne approfitterò per fare qualche call news eccetera perché ci vogliono e poi naturalmente parte il weekend alla grande libidine con le schedine bollettine del gigione per i campionati italiani poi c'è anche la formula 1 la moto gp ne ho ne ho ne ho quindi bando alle ciance ci vediamo alla prossima ciao ciao